Ebbene ragazzi, ebbene, dopo circa 16 anni torno a fare un video nel quale sono contento delle convocazioni del commissario tecnico. Penso che l'ultima volta che era successa una cosa del genere probabilmente stavamo per vincere il mondiale. Non credo ai miei occhi, è clamoroso, sono contento delle convocazioni di Luciano Spalletti. Che poi vi dirò, che poi vi dirò, già la prima volta mi erano piaciute un po' meno, le trovavo un po' troppo simili a quelle di Mancini. Però ve lo dicevo, è comunque la prima volta che fa le convocazioni, ci sta tenere una linea guida per poi evolversi con il tempo. E quindi, sì, magari ero anche un po' arrestio, però potevo accettarlo. Questa volta, un po' perché sono di più i convocati, fino a 26 se non sbaglio, la tua volta se me era qualcuno di meno c'era, e poi era stata anche data priorità abbastanza all'Under 21, questa volta con pochi infortunati e con tanto senso i convocati di Spalletti mi piacciono. Veramente, veramente tanto. Detto questo, prima di iniziare ragazzi, vi lancio una sfida. Siamo a 494.119 iscritti. Se arriviamo a 494.500 iscritti, entro giovedì vi porto una tier list relativa all'Italia. Quindi se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi che facciamo questa cosa qua. Detto questo, partiamo subito. E partiamo dai portieri. In porta, porta, Donnarumma, Meret, Provedel e Vicario. Che gli vuoi dire? Io personalmente niente. Beh, diciamoci la verità. Sui portieri l'Italia non ha mai avuto grossi problemi. Questi sono i portieri che devono giocare. La gente si lamenta di Donnarumma, per me capisce veramente poco. Non è cattiveria. Ma non si può in questo momento lasciare fuori un portiere come Donnarumma. Poi, nell'ultimo mese, ok, Vicario è stato molto hypato perché fa il titolare. Provedel è stato più famoso per i gol, per il gol che ha fatto, che per le parate. E poi Meret, insomma, anche nella partita di ieri, non è che mi abbia fatto poi così tanto impazzire. Fatto sta, comunque, che questo parco portieri, secondo me, è intoccabile. Cioè, chi levi? Chi levi? No, dai, secondo me è giusto così. Poi, secondo me, abbiamo anche un futuro abbastanza tranquillo per quanto riguarda i portieri. Non solo per quelli che sono titolari oggi, ma anche per quelli che lo saranno domani. Vi basti immaginare che c'è Desplanché, come diamine si dice, in under 21. Boh, la nazionale, secondo me, sotto questo punto di vista, è in ottime mani. Sui portieri, raga, non c'è mai niente da dire. Cioè, qua non è che faccio i complimenti, magari, a Spalletti piuttosto che a Mancini. I portieri sono sempre questi. Poi sta a lui scegliere l'ultimo tra Vicario e Meret. Per me i tre portieri titolari, i tre portieri titolari dovrebbero essere Donnarumma, Provedel e Vicario. Però sono i miei due centesimi e, soprattutto, se convochi Meret, non la trovo una cosa così tanto strana. Quindi mi andrebbe bene anche quello, per dire. Comunque, approvo. Lista di difensori centrali. In realtà, qui sono anche i terzini. Noi partiamo dai centrali e poi analizzeremo anche i terzini. Allora, i centrali sono Acerbi, Bastoni, Gatti, Mancini e Scalvini. Allora, manca Romagnoli, non so, e anche Casale. Non so se hanno avuto qualche tipo di problema. Non sono stati chiamati. Io ripeto che, per quanto mi riguarda, capisco che in questo momento fai fatica a non chiamare Acerbi. Però mi sorprende sempre il fatto che Acerbi non sia stato minimamente cagato quando era alla Lazio. E che comunque era 5-6 anni più giovane e adesso invece viene chiamato puntualmente. Ci sta la presenza, secondo me, di Gatti. È scontata. La presenza di Bastoni. Questa, manco ve lo dico, Bastoni è uno dei top. Forse è il più top che abbiamo ugliato e va bene così. Gatti, per quanto mi riguarda, ci deve stare. Qualcuno lo ha perculato anche un po' troppo, se posso essere sincero, rispetto a quanto, secondo me, se sarebbe meritato per l'autogol contro il Sassuolo. E poi, invece, di tutta la risposta, ha fatto uno dei due gol contro il Torino. Tra l'altro il suo primo gol in Serie A ha fatto due gol lo scorso anno in Europa contro Siviglia Sporting, se non vado errato. Quest'anno segna per l'altro in Serie A contro il Torino con la maglia della Juventus. Tra l'altro suo padre, che è di Torino, tra l'altro, è del Torino e che tifa Torino fin da quando è piccolo. E Gatti, sostanzialmente, secondo me, sta facendo comunque una buona stagione. Farà parte, secondo me, del futuro dei titolari della nazionale e quindi ci sta a chiamarlo. Così come ci sta a chiamare Scalvini. Perché Scalvini, raga, parliamoci chiaro. C'è un giocatore che ha il destino segnato. Cioè, lui sarà un titolare della nazionale. È giusto. È giusto che ci sia. Diamo possibilità a sta gente. Anche perché quando in futuro abbiamo preferito fare altro, con i Caldara, con sta gente qua, non manco me ne ricordo altri, però ce ne avevamo questi qua. E non gli abbiamo mai dato una reale possibilità. Ci siamo sempre persi grandi occasioni per strada. Iniziamo a responsabilizzarli. Iniziamo a responsabilizzare Scalvini. Poi vediamo quello che succede. Su Mancini sapete come la penso. C'è un giocatore greve, rude, che ci deve stare, che ci sta sempre. Il mio Mancini. Il mio Mancini. Guardatelo. Il mio Mancini. Guardatelo il mio Mancini che bello. Ci sta e ci deve stare sempre. Il mio gialluchino Mancini, ragazzi. Quanto è forte Mancini. Comunque, torniamo a noi. Vi stavo dicendo. E per me sono questi qua i difensori che ci stanno. Non avrei forse saputo fare meglio. Tra l'altro, non credo siano state fatte scelte preferendo lasciare qualcuno in Under 21. Tutti quelli centrali che sono andati in Under 21 sono giocatori che secondo me non avrebbero meritato la convocazione. Io vi dico sempre il mio punto di vista. Cioè, per me questa difesa, adesso passeremo anche ai terzini, è perfetta per giocare a tre. Perché? Perché Acerbi gioca a tre, centrale. Perché Bastogna è braccetto a tre. Perché Darmian è braccetto destro a tre. Perché Di Marco può giocare esterno di centro, ma anche braccetto di sinistra a tre. Perché Gatti gioca a tre. Perché Mancini gioca a tre. Perché Scalvini gioca a tre. Cioè, questa squadra deve giocare a tre. Cioè, per me è chiaro, è lampante che debbano giocare a tre. Non capisco come sia possibile che invece chi di dovere non prende questa scelta, Spalletti. Sta cosa la continuerò a dire per tutta la vita. Cioè, per me in questa situazione qua tu giochi a tre. Perché c'hai tutti i giocatori, non ce n'hai nemmeno uno. Ecco, l'altra volta era giustificato in parte perché Romagnoli e Casale giocano a quattro. Gli altri ragazzi giocano tutti a tre. A questo punto è obbligatorio, secondo me. Io mi auguro che già contro... Con chi giochiamo adesso? Forse Malta. Mi pare Masi. Sì, Malta. Malta. Sabato e poi settimana che viene l'Inghilterra. Già contro Malta si giochi a tre. Perché per me è fondamentale. Comunque, tutto sommato, sui difensori centrali sono d'accordo. Ripeto, non so Romagnoli e Casale della situazione. Io avrei portato Romagnoli. Ci stava. Però se giochi a tre, questa è perfetta. Perché comunque, contando anche Darmian, nel caso anche Di Marco, ci avresti anche altri due giocatori che si aggiungerebbero, in quel caso, ai tre di difesa nel roster totale. Come Terzini, quindi, l'Italia porta Biraghi, Darmian, Di Lorenzo, Di Marco, Udoge. Udoge. Non pensavo di riuscire nella mia vita a vedere Udoge in nazionale maggiore. Raga, ero arrivato, eh. Credevo che non potesse accadere una cosa di questo genere. Credevo non potesse accadere. Ormai ero certo che non sarebbe mai accaduto. E invece, eccolo lì, Udoge. Bello come il sole. Chiaramente, ora, già la gente dice, ma Cagliode, regà, in Under 21, ma è giusto. Ruggeri, Cagliode, fategli fa un po' d'esperienza. Cala Fiori, fategli fa un po' d'esperienza. Cagliode, non è che appena uno fa una buona partita lo portiamo in nazionale maggiore. Cagliode si farà la sua nazionale minore. Un paio di mesi, tre, quattro mesi. Se dovesse essere importante, allora ben venga, andiamo a prenderlo subito. Ma dategli tempo di crescere. Darmian, che giocherà esterno a destra, ci sta. Spero però che si giochi con il braccetto. Di Lorenzo, che ve lo dico a fare. Gatti è l'altro titolare, che ve lo dico a fare. La scelta, secondo me, è azzeccata. Biraghi è un giocatore che va sempre convocato. Sapete quello che penso di Biraghi? Biraghi è un giocatore, ragazzi, che è totale. Cioè, che quando gioca succede sempre qualcosa dalla sua parte, no? E quindi per me è infattibile non convocare in questo momento Biraghi. Ecco, allora, vi dico la verità per come la penso io. Se giochiamo a tre dietro, la convocazione di Darmian io la condivido in pieno. Se invece non dovessimo giocare a tre dietro, ma a quattro, io boccio completamente la convocazione di Darmian, perché non me ne faccio nulla. Avrei di gran lunga preferito la presenza di Parisi, che comunque con la Fiorentina adesso, soprattutto dopo l'infortunio di Dodò, sta giocando adattato. Cioè, o gioca uno o gioca l'altro, comunque giocano insieme sia Biraghi che Parisi. Quindi, in quel caso, Darmian non l'avrei convocato. Se giochiamo a tre dietro, però, la convocazione di Darmian, così non la convocazione di Serbi, ci sta. E anche perché è perfetta per quello che Luciano Spalletti sta costruendo. E quindi sono contento. Passiamo ai centrocampisti. Solo questi, ragazzi. Solo questi, perché negli attaccanti c'entrano anche le ali e nei difensori c'entrano anche i terzini. A centrocampo ci sono. Cioè, Barella, Buonaventura, Cristante, Frattesi, Locatelli e Tonali. Godo, perché vuol dire che Verratti e Giorginio sono stati ufficialmente esclusi dalla nazionale italiana. Non che io sia contento per loro, perché umanamente non mi hanno fatto nulla. Però non mi dispiace per niente, perché credo che servisse fare un passo oltre. Poi è chiaro che se Verratti e Giorginio dovessero arrivare in Italia, fare la differenza, dimostrare di essere fenomenali, allora un pensierino ce lo fai. Però in questo momento, ragazzi, la decisione che va presa, secondo me, è questa qua. E non c'è nient'altro, a mio avviso, da dire. Detto questo, su Barella non c'erano dubbi, su Frattesi non c'erano dubbi, su Tonali non c'erano dubbi. E va bene, così sono i nostri tre titolari. Tonali, Barella e Frattesi, o comunque quelli che dovrebbero essere i nostri titolari. Locatelli, ho visto che qualcuno critica, probabilmente sta facendo fatica a seguire il calcio quel qualcuno che critica in questo momento, perché altrimenti non ne capisco il motivo. Locatelli ci deve stare. Così come è giusto che ci sia Cristante, sia per la sua utilità, il fatto che può giocare difensore, può giocare centrocampista, mediano, mezzala, eccetera, sia perché comunque sta facendo una stagione straordinaria, ma poi comunque è un fedelissimo, se tutti i CT lo convocano sempre, da Mancini a Spalletti, se tutti gli allenatori lo mettono sempre titolare a Roma, da Murigno a Fonseca, ci sarà un motivo, no? Magari noi non ce ne accorgiamo, ma Cristante veramente fa la differenza. Quindi è giusto che sia convocato. E trovo anche abbastanza piacevole la convocazione di Buonaventura, perché secondo me ci sta. Cioè sta facendo un'ottima stagione, quest'anno ragazzi è in uno stato di forma, che dire strabiliante, ve lo giuro ragazzi, è dire poco. Cioè parlare di un Buonaventura, che è in un buono stato di forma, è abbassare le qualità di Buonaventura. Per questo dico che secondo me la convocazione del Jack di Cuori, della Fiorentina, è assolutamente corretta. È un premio che si merita. È chiaro che un nome, mi è rimasto un po' qua, ovvero quello di Fagioli. Quando non l'ho visto convocato in nazionale minore, ho detto cazzo, è la volta buona che lo portano. Nella Maggiore. E invece non c'è Fagioli. Mi dispiace, mi dispiace perché credo che questo sia il momento per iniziare a far fare le ossa a Fagioli. Cioè a livello propedeutico e a livello diciamo di prospettiva per il futuro, vedo molto meglio Fagioli in questa lista rispetto a Buonaventura. Poi sono contento per Jack, perché se lo merita, perché si sta impegnando tanto e perché Spalletti dimostra anche che chi fa bene viene convocato. Però comunque Fagioli forse per il futuro avrebbe fatto più comodo. Mancano diversi centrocampisti giovani, ve lo dico sono tutti in Under 21, da Baldanzi a Bove, passando per Casadei, Fabian, Fazzini, Miretti, Indur e Prati. Ecco, il centrocampo dell'Under 21 è qualcosa di clamoroso e tra un po' è più forte di quello della prima squadra. Abbiamo tanti centrocampisti forti e funzionali, alcuni forti, alcuni funzionali, alcuni entrambi e quindi è giusto secondo me che vengano che vengano convocati questi. Insomma che cioè non mi trovo in disaccordo con la convocazione dei centrocampisti di Luciano Spalletti. È chiaro poi che se dovessimo parlare di titolari come vi dicevo vedo Barella, vedo Tonali, vedo Frattesi, poi gli altri insomma Cristante è funzionale, Buonaventura è un premio, Locatelli è funzionale, ci siamo secondo me. Vi ripeto mi dispiace per Fagioli ma ci siamo. Qualcosa invece ho da dire per quanto concerne gli attaccanti ma andiamo per gradi. Partiamo dalle ali. Sulle due fasce ha convocato Berardi, Chiesa, Raspadori, Zaccagni e Zaniolo. Allora, bah, ho visto tante critiche. Sì, ho visto diverse critiche perché non c'è Orsolini, cosa che per me dico che è normale però ci può anche stare nel senso che a me Orsolini ragazzi ogni tanto fa qualche xpload fa tre gol in una partita però delle volte dorme in piedi poi fa delle gare spettacolari delle altre mediocre io non è che se Spalletti non convoca Orsolini grido al complotto per quanto mi riguarda è una scelta che si può anche fare è forse un po' meno accettabile se così si può dire è forse un po' meno comprensibile l'esclusione di Politano perché perché comunque Politano in questo momento sta facendo veramente bene a Napoli ha già fatto praticamente gol e asis dello scorso anno ma in otto giornate nonostante insomma il Napoli non stia brillando e tra l'altro in queste ore sto registrando i video si parlava addirittura di un esonero di Garzia non so se poi effettivamente accadrà oppure no però si parlava di questo poi avrete aggiornamenti chiaramente sul canale e se se dovesse succedere qualcosa non credo comunque vediamo ma ho detto così poi magari succederà vi stavo dicendo e forse a Spalletti non piace Politano già anche lo scorso anno non è che gli facessi vedere poi così tanto il campo cioè giocava però si alternava continuamente con Lozzano non era sicuramente un perno centrale del Napoli quindi visto che l'allenatore è sempre lui non mi stupisce che venga presa oddio che capelli non mi stupisce che venga presa una decisione di questo di questo tipo qua e poi sui titolari cioè sui convocati sono abbastanza d'accordo Berardi non puoi lasciarlo a casa per nessuna ragione al mondo Chiesa rega ma Chiesa in questo momento è straordinario va convocato e basta Zaccagni e Zaniolo sono in coppia guardate ce li ho qui tutti e due Zaccagni Zaccagni e Zaniolo non puoi lasciarli a casa convochi uno convochi l'altro Zaccagni e Zaniolo quindi li chiami senza grossi però a parte gli scherzi poi Zaccagni è straordinario allora Lazio Zaniolo sta facendo bene in Inghilterra adesso gioca in Inghilterra quando era in Turchia ero il primo a dirvi lasciatelo a casa ma coi amata fa adesso che in Inghilterra va convocato Raspatori a me fa impazzire cioè a me fa impazzire l'unico l'unico gioco che potete lasciare a casa per pulire era proprio Raspatori a livello di logica o Zaniolo se proprio però a me per Zaniolo trovo giusto che sia stato convocato Raspatori a me fa impazzire credo faccia impazzire anche Spalletti sebbene comunque Spalletti non è che lo vedesse poi così tanto a Napoli gli regalava qualche scorcio di partita di tanto in tanto qui e lì non è che lo facesse già arrivare così tanto però comunque vedo che adesso lo mette il nazionale ci crede tanto spesso lo facerà anche da prima punta e quindi ci può stare a proposito di prime punte le punte che ho portato sono Ken e Scamacca qualcuno dirà madonna mia che schifo è giusto non vi dimenticate però che la nazionale arriva la posta della nazionale arriva proprio nel momento in cui Immobile si è fatto male e Retechi si è fatto male quindi ci mancano tutte e due abbiamo dovuto chiamare due giocatori insomma in sostituzione di questi due probabilmente senza infortuni avrebbe chiamato sia Retechi che Immobile che anche Scamacca c'è una cosa però che non mi piace ovvero l'assenza anzi aspettate aspettate andiamo per gradi perché c'è Ken allora la cosa che non mi piace è la presenza di Ken ve lo dico senza grossi problemi in Under 21 non ha lasciato nessuno c'è Colombo Esposito Nastio Ristanio Coleoscio tutta gente dell'Under 21 quindi va bene così però ora io magari passerò da romanista ci sta ma in una situazione in cui c'è Retechi Immobile e Scamacca alzo le mani ma in una situazione in cui ti mancano Retechi e Immobile come fai cazzo vai non convocare Belotti che in questo inizio di campionato ha fatto tipo già 5 gol tra campionato e Coppa cioè ha segnato ovviamente ogni partita già ha segnato sempre e a portare Ken a me non mi toglie mai dalla testa nessuno sta cosa che Ken è nazionale perché perché indossa la maglia della Juventus che ha un peso specifico e quindi quando vai a fare le convocazioni preferisci portare lui che se no ragazzi io non me ne capacito cioè scusatemi ma io voglio andare un attimo su Ken io vado su Ken vado a vedere le caratteristiche di Ken poi non ho nulla contro Ken cioè comunque c'ha 23 anni è giovane è pronto per spaccare il mondo quest'anno ha fatto 5 partite in Serie A 5 partite in Serie A diciamo che comunque 2 da titolare contro l'Atalanta e Torino 2-3 da subentrato quindi ne contiamo un paio comunque 0 gol 0 gol lo scorso anno quanti gol ha fatto Ken? 6 6 in tutto il capo in 28 gare giocate ha fatto 6 gol e non ho contato l'Europa la conto conto pure l'Europa il campionato almeno stiamo tranquilli magari ha fatto qualche gol qui e lì 8 gol in 40 partite ora Moise Ken non è che sia proprio cioè in nazionale in 12 partite ha fatto 4 gol 4 gol in 12 partite in nazionale non lo so ha fatto un gol contro la Finlandia un gol contro Lichtenstein 2 gol contro la Lituania con Lichtenstein mi ha vinto 6 a 0 con la Lituania 5 a 0 cioè poi magari fa anche gol però a livello di a livello mentale hai convocato per anni Belotti quando faceva schifo arcazzo no? perché è stato un periodo anche a Roma in cui lo convocavano lo convocavano e faceva schifo adesso che sta facendo la differenza quando li trovi obbligati a trovare una punta ma perché non portare Belotti e Scamacca e andare a portare Ken? io non lo so a me questa cosa non piace perché mi sembra una limitazione inutile poi chiaramente non voglio troppo lamentarmi perché a me Simone a me sequel personalmente le convocazioni di Spalletti piacciono piacciono però boh sta cosa mi ha lasciato un po' basito perché per me Belotti oggi considerando l'assenza di immobili l'assenza di retechi poteva fare staffetta addirittura per fare il titolare con Scamacca o uno o l'altro invece addirittura ha lasciato a casa non lo so questa cosa non mi fa impazzire ecco gli unici nomi che posso insomma citarvi che avrei preferito vedere sono Belotti Politano e Fagioli poi nel caso Parisi se giochiamo a 4 se no va bene così se giochiamo a 3 su Fagioli mi può anche andare bene ve l'ho detto su Fagioli mi può anche andare bene l'unica cosa che proprio non capisco è Belotti il continuo a convocare Ken e sono sicuro se domani Ken va a giocare all'Aston Villa non viene più convocato se domani Ken va a giocare al Torino non viene più convocato perché comunque magari quella maglia ha un peso specifico ma non un peso specifico in senso negativo cioè comunque devi avere due palle grosse per avere addosso la maglia della Juve e quindi viene visto come uno già pronto però secondo me c'ha poco senso perché oggi per quanto mi riguarda oggi Ken non merita la nazionale e per voi questi ragazzi erano i miei punti di vista fatemi sapere la vostra e iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimo mi piace buo ce lalala ciao